buongiorno a tutti io sono dimitri bellini e siete di nuovo con me su quadrata il canale dedicato all open source e alla tecnologia in generale del mondo it e questa settimana parleremo di nuovo del mio amico zabbix perché perché mi hanno fatto notare che potremmo potrei far vedere qualche cosa in più su come configurare lo zabbix anche cose banali e quest'oggi andremo a parlare dei template ok e mia mi aiuterò come al solito con le mie fantastiche slide e quindi muoviamoci subito sul fantastico powerpoint che cos'è un template in zabbix sostanzialmente è un modo per semplificare la gestione quotidiana dei monitoraggi ed è equivalente a dire creo un modello di metriche per poter monitorare uno specifico oggetto ok che sia un sistema operativo che sia un device di network eccetera io faccio un modello che include tutte le metriche che che possono interessarmi ok poi andremo a vedere meglio che cosa c'è ma parte che lo vediamo anche già qua quindi un template incorpora quelli che vengono chiamati items quindi le metriche i trigger che sono le soglie no che si basano sugli item che andremo a creare i grafici delle dashboard le low level discovery e anche i web scenario ok quindi dicevamo ci semplifica la vita di gestione perché chiaramente io tramite un modello posso andarlo a dare a n host migliaia per assurdo come vedete qua quindi un template che viene agganciato a più host e facendo in questo modo io posso chiaramente andare a operare solo sul template e in automatico viene distribuito queste modifiche vengono distribuite su tutti gli host che sono collegati a questo template ed è molto semplice proprio tutta la gestione posso anche fare che cosa riutilizzare questo template magari su altri clienti no lo faccio inizialmente a casa e lo porto in giro da tutti i clienti posso chiaramente anche andare a creare più template e magari versionarli per identificare la versione 1 la versione 2 eccetera magari su zabbix non è così facilissimo per adesso ma si vedrà nel futuro la parte di versioning e detto ciò vi consiglio sempre di andare a vedere la documentazione ufficiale ok che la trovate sempre sotto il sito zabbix.com slash documentation e trovate sempre molte informazioni utili ok quindi le mie slide non sono esaustive ma sono un punto di partenza come si fa a creare e come fatta la come fatto un template ok per crearlo basta solo andare sotto data collection se parliamo di zabbix 6.4 da sotto data collection nella parte template il template alla fine non è altro che un host perché ha tutte le stesse metriche che poi verranno agganciate all'host quindi avremo quello che abbiamo visto prima gli items i trigger eccetera ma un template sicuramente come vedete qua non ha quello che abbiamo sempre visto all'interno di un host quindi l'interfaccia perché perché chiaramente il template è agnostico non sa poi dove andrà collegato quindi l'interfaccia dovremo poi andarla definire nell'host quindi è molto simile a livello di aspetto grafico e di contenuti di quello che andrete andrete a poter configurare direttamente un host ok il template anche il template ha la possibilità di gestire dei tag o configurare delle macro e solo no solo no ma sicuramente nel template ha più senso creare le value mapping e quindi quelle rappresentazioni che ci permettono di essere un pochino più avere una rappresentazione un pochino più umana dei valori che magari vengono raccolti tramite delle metriche di tipo snmp quindi uno uguale online o cose di questo genere quando andiamo a creare un template cosa sono i parametri fondamentali quali sono scusate i parametri fondamentali sicuramente il template name quindi dovete dare un nome al vostro template non ci sono dei parametri particolari però fatelo in modo che sia capibile ok non mettete delle sigle assurde ma mettete quello che veramente rappresenta questo modello di monitoraggio dovrete andare ad assegnarlo all'interno di un template group quindi scegliete voi qualunque cosa va bene però fate in modo che si capisca che questo qua è un template specifico magari per fare qualcosa di particolare quindi lo mettete nel gruppo corretto che magari non esiste potete anche crearlo on the fly mentre create il vostro template una volta creato il template e creati gli item e magari trigger eccetera potete assegnarlo a un host e come vedete qua questa è la schermata in cui noi possiamo andare a definire le proprietà fondamentali dell'host in zabbix tra cui anche la parte dedicata al template quindi un host può essere agganciato a tanti template o anche solo uno ok o anche zero però per una gestione molto più snella e molto più semplice io vi consiglio sempre di utilizzare dei template perché per migliaia di motivi ma sicuramente lo capirete dopo averli creati o quando iniziato utilizzare in maniera un pochino più spinta lo zabbix in generale usate template quindi qua aggiungiamo il nostro template possiamo andarlo a cercare sfruttando il tasto select oppure possiamo digitare qua sotto il nome e in automatico lo zabbix vi proporrà un insieme di template che hanno quel nome specifico una volta collegato il template all'host chiaramente all'interno dell'host items avremo tutti i nostri item ereditati appunto del template ma come faccio a capire quali sono gli item di quel template piuttosto che di un altro come vedete qua nella schermata items verranno fuori sì tutti gli item ma anche a fianco ci sarà in grigetto il nome del template che li ha generati ok in modo tale da semplificare e capire subito chi mi ha dato quel template per magari ne ho tanti collegati a quell'host ma come faccio a vedere come da chi viene ereditato questo item in questo modo molto semplice direi posso fare delle customizzazioni sugli item ereditati dal template in parte sì ok quindi alcuni ne lo vedete qua alcuni parametri dell'item generato dal template in questo caso linux by zabbix agent sono in grigetto ok tutti quelli che sono in grigetto non sono modificabili ok invece alcuni vedete qua tipo l'update interval custom interval e history storage period e l'inventory e la description e anche il enable flag sono possiamo modificarli possiamo andare in override rispetto al comportamento standard del template quindi se il template qua aveva un valore uguale a un minuto io posso anche dire su questo host su questo item specifico anziché un minuto metti 5 ok e lo potete fare come anche definire una storage history differente da quella definita all'interno del template ok quindi alcune cose possono andare in override ma proviamo a vedere direttamente sul nostro zabbix come possiamo creare un template al volo ok solo per farvi capire non vuole essere esaustiva sta cosa ma solo per farvi entrare un pochino nel mood di come si crea un template quindi io vado sotto data collection templates create template e quindi qua ci metto il il nome del mio template ok e lo chiamo cpu magari cpu performance ok e lo devo assegnare a un template group e quindi magari vediamo se ne ho uno non ne ho uno e quindi faccio non so template youtube mettiamo youtube perfetto vedete che qua non c'era magari se lo scrivo anche giusto ok non c'era e zabbix mi suggerisce di aggiungerlo quindi lo aggiungo volendo io già qua potrei aggiungere eventuali tag o macro o video ma per adesso lo lascio libero e cosa faccio gli dico ad e adesso vado a cercarlo quindi vado a cercarlo qua io ok perfetto non lo trovo come al solito quando uno cerca qualcosa non la trova ma cerchiamo qui ok filtro per template group vero perché l'avevo chiamato cpu lo vedete qua a sto punto creo ah ecco interessante a sapere vedete che qui c'è una colonna host qua una volta che verrà assegnato a ai nostri host questo template vi mostrerà quali host sono collegati a questo specifico template lo vediamo magari dopo quindi creo il mio item item magari cpu usage ok lo facciamo semplice poi vado qua mi cerco la metrica che mi interessa in questo caso cpu vado a cercare ok si più utile va bene pensi più utile track la prendo liscia 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 è questa numeric flotte unità percentuale perché l'utilizzo da cpu update intervallo un minuto tutto il resto mi va bene così non c'è una value map e quindi direi che posso lasciarlo tranquillamente non ho bisogno di aggiungere tag magari componente componente aggiungiamo lo cpu ok va bene e a questo punto faccio ad ho creato il mio primo template come vedete c'è un item che volendo posso creare anche un trigger quindi faccio trigger cpu hai lo hai per cento e la metto avere poi mi prendo il mio item faccio insert la faccio molto semplice maggiore di 50 quindi se supera il 50 per cento mi si accende il trigger solo per farvi vedere ok quindi qui abbiamo il nostro bellissimo template che ha un item è un trigger adesso andiamo ad abbinarlo a un host quindi data collection host io mi creo un nuovo host e lo chiamo youtube testa 2 e vabbè lo segno lo sgruppo youtube e qui devo andare a definire qual è il template quindi il mio template si chiamava cpu ok vedete che zabbix mi propone tutti i template che hanno la parola cpu io scelgo il mio perché si chiama cpu performance perfetto qua aggiungo la mia interfaccia in questo caso è 127 001 perché la gente sul mio server va bene e poi faccio ad in automatico vedete che il mio host ha ereditato un item e un trigger andiamo a vedere qua dentro eccolo qua questo è il mio item creato nel template e vedete questo è il nome del template infatti se io ci clicco qua sopra lui mi dirà parent items cpu performance quindi io se clicco qua lui mi porta direttamente all'item creato all'interno del template qua volendo io anche posso cambiare l'update interval posso salvare update e come notate è rimasto due minuti anche se il mio template prevede un minuto ok questo è l'item collegato al template questo invece è l'item all'interno dell'host quindi l'ho customizzato solo su questo specifico host quindi non è difficilissimo creare un template ma è molto comodo perché perché adesso ad esempio vedete il mio template qua mi fa vedere che è collegato a un host ci clicco sopra mi porta direttamente all'host che ha il mio template e qua sempre nella data collection host vedete che c'è una colonna dedicata ai template se ci fossero più template avrei più informazioni qua in questa colonna che mi dice che questo host è collegato a più template ma sicuramente è molto facile capire cosa sto monitorando con questo host perché qua vedo subito che gli ho segnato questo template quindi semplifica tantissimo il monitoraggio e anche poi la gestione quotidiana dei nostri host perché a colpo d'occhio capiamo subito immediatamente che questi che questa macchina ha comunque un insieme di modelli di monitoraggio collegati posso chiaramente creare o per esempio guardate posso anche fare un clone clono questo item e lo chiamo cpu user 2 chiaro che adesso qua dovrò fare un po di magheggi e vado a crearmi un item collegato direttamente all'host vedete che cambia questo è collegato direttamente all'host questo invece è di derivazione del template cosa succede se io vado a dire qua nell'host senti a me questo template non mi interessa più cosa posso fare posso fare posso fare due operazioni posso fare un link e andrà a togliere il template ma lasciando l'item proviamoci faccio un link non ci sono più template faccio update e se andiamo a vedere sotto host e quindi qua ci devo mettere il nome del mio host vedete che vedete che non ci sono più template collegati a youtube test 2 ma ci sono ancora gli item gli item sono rimasti uno perché era quello che avevo creato direttamente nell'host ma l'altro è rimasto anche se era del template perché perché gli ho detto unlink senza fare un link and clear se avessi fatto un link and clear lo vediamo dopo avrei cancellato anche l'item mettiamo che mi sono sbagliato e voglio ri agganciare il template che avevamo creato in precedenza a questo punto faccio di nuovo seleziono cpu prendo il mio cpu template e cosa succede perché il template ha già quell'item e anche l'host hanno già quell'item ma Zabbix è furbo riconosce l'item che è presente sia sul template che anche sull'host e quindi lui mi aggancia il precedente item che non era più collegato al template sull'host al template che adesso gli ho assegnato e capite che è molto interessante questa cosa perché eventualmente in alcune situazioni può nascere questa esigenza di andare successivamente ad aggiungere il template ma non mi vado a perdere nulla e non ho neanche tanti problemi ok se invece usavamo l'opzione un link and clear adesso vi faccio vedere quindi se clicco qua sopra perdo il mio template faccio update e vedete che l'item non c'è più è rimasto solo l'item che ho creato specificatamente entro nell'host ok quindi sono non è così complicato direi che è abbastanza semplice poi volendo potete complicarvi la vita notevolmente però in linea di massima questo è come creare un template su Zabbix detto ciò è ovvio non è tutto quello che si può dire dei template ma se ci sono dei dubbi o delle domande ben specifiche fatemele qua sotto nei commenti e cercherò di rispondervi magari anche se volete farle all'interno della nostra community su telegram Zabbix Italia siamo in tantissimi se avete delle domande più specifiche fatele pure lì sopra che sicuramente o io o qualcun altro magari vi darà qualche risposta detto ciò io vi ringrazio anche per questa settimana per le prossime settimane siamo vicini alle vacanze e quindi mi prendo qualche settimana di ferie e quindi ci rivediamo a fine agosto volevo anche farvi vedere cosa è successo a Riga nei giorni precedenti perché sono andato a trovare i miei amici Alexei e Sergei in Zabbix ma vabbè sarà per la prossima volta grazie ancora a tutti e se vi è piaciuto ricordatevi un bel like e ci vediamo nella prossima puntata ciao a tutti e buone vacanze ancora ciao a tutti we song ciao a tutti e buone vacanze ciao a tutti e buone vacanze